Mike, questo è il suo nickname, il numero 974, ex campione italiano di minicross, plurivincitore di Manchal, italiano minicross, ex campione regionale di minicross, quindi un palmarès, quello nelle categorie 2.000, che per Magri è stato molto molto ricco. Questa stagione lo vede in sella quest'oggi a una 2.54 tempo, la stagione della 125, che non è stata fortunatissima. E ora una nuova avventura in continuazione 2014. Vai vai! Guardate come si mangia, in salita, viene un'altra discesione, ma che... ...